sono 736 milioni le persone che nel mondo vivono con meno di un dollaro e 90 al giorno analizzando il contesto nazionale in italia persistono evidenti differenze territoriali quasi la metà il 44,4 per cento degli individui che risiedono nel mezzogiorno è infatti a rischio di povertà o di esclusione sociale al nord invece soltanto il 18,8 per cento della popolazione si trova in tale condizione che cosa possiamo fare noi per cercare di limitare questa situazione di donare quello di cui non abbiamo bisogno anche un piccolo gesto una piccola donazione donare i capi di abbigliamento i mobili di elettrodomestici che non utilizziamo non significa soltanto dare loro una seconda vita ma anche limitare l'impatto ambientale e supportare chi ne ha bisogno sostenere le organizzazioni e le associazioni che lottano contro la povertà ci sono infatti tantissime realtà associazioni no profit ed ong che seguono e creano progetti per eliminare la povertà nel mondo per approfondire questa e altre tematiche sulla sostenibilità iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di Onehood